Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video. In questo video volevo soltanto far vedere come in un supermercato della mia zona ci hanno fregato, perché per la precisione questo articolo l'ha comprato mia mamma, sul peso di queste pizzette e sul prezzo ovviamente, perché il prezzo al chilo non combaciava effettivamente con il peso delle pizze che abbiamo comprato. E questo ovviamente in un supermercato, quindi mi raccomando, occhio perché tendono a fregare ovunque, anche dove uno si aspetta che non ci si possa prendere una fregatura come appunto in un supermercato. Guardate un attimo questo mini video. Come vedete indicativamente il peso segnato sulla targhetta è di 350 grammi, mentre il peso effettivo è praticamente di 200 grammi, quasi la metà, quasi la metà. Quindi praticamente invece di tre pizzette e mezzo ce ne sono state date due a quel prezzo. Ovviamente è una bella fregatura in quanto potrebbe capitare praticamente con qualunque cosa, anche con le pagnotte di pane e quant'altro. Infatti vi consiglio, se notate che qualche cosa potrebbe essere sospetto nel prezzo, di utilizzare la bilancia della frutta che sempre spesso è lì vicino a quella del pane per controllare che il peso effettivo sia quello segnato sulla targhetta e non ci sia una fregatura di fondo. Bene, con questo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.